del Governo. Abbiamo il 20.1. Invito a ritiro parere contrario. Grazie. Governo. Pareri conformi al relatore. La ringrazio. Ci sono interventi? No. Dichiaro aperta la votazione. Chi non riesce a votare? Beh, dichiaro chiusa la votazione. 78 favorevoli, 333 contrari. La Camera respinge. Andiamo alla votazione dell'articolo 20. Non ci sono interventi. Dichiaro aperta la votazione. Allora, chi non riesce a votare? Bene. Carloni. Manfredi. Bene. Dichiaro chiusa la votazione. 295 favorevoli, 10 contrari. La Camera approva. Adesso andiamo all'articolo 21. Chiedo i pareri del relatore sugli emendamenti riferiti all'articolo 21. Relatore Mattiello. Siamo all'articolo 21. Emendamenti e aggiuntivi. 21.1. Invito a ritiro parere contrario. 0.21.2.1. Invito a ritiro parere contrario. 21.2. Favorevole. Grazie. Il Governo. Grazie, Presidente. Conforme al relatore. Grazie. Bene. 21.1. Businarone ed altri. Pareri contrari. Non ci sono interventi. Dichiaro aperta la votazione. Grazie. 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 Grazie.